Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a mille like, condividete il video, iscrivetevi al canale dei 6 nuovi Lascia l'hashtag Brawl Stars con sotto i commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi Oggi voglio farmi qualche partita con Sandy per vedere effettivamente il drop quanto ha influenzato su questo personaggio Io la star power sua ancora non ce l'ho perché sono livello 5 E voglio andare a vedere soltanto la differenza di quel colpo in più effettivo che Sandy ha bisogno per creare la sabbia Quindi andiamo a provare su stella solitaria che forse è abbastanza pesante per lui Se effettivamente è cambiato qualcosa Andiamo in gioco Ok si entra Stella solitaria con Sandy Ai 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 C'è una piper laggiù E non ci ha calcolato, non ci ha visto, non ci ha pensato proprio a noi Quindi potrebbe succedere un bel divertimento tipo questo Aia Oh no me l'ha fregato Oh mi sono fatto fregata la piper non ci credo Non ci credo come mi sono fatto fregare male La poteva essere una situazione fantastica Hai ritornato pure il brocco insieme a me Hai bisogno di più stelle E giustamente Eccolo Eccolo Aia Aia Mi ha preso tre volte Olè No mi sono fatto fregare come uno scemo Eh niente Mi sono pure incastrato Non so come ho fatto Puoi fare di meglio Lo so che posso fare di meglio Ma mi ha fregato Involontariamente mi ha fregato Ho creduto eh Ok Vediamo un po' se riusciamo a fregare questo No ti pare Ok Ci ho provato E Oh fatto No E mi ha preso Ti pareva Ti pareva Ok stiamo su continua così Però adesso non è malissimo Però già mi hanno ucciso due volte In modo veramente male Vediamo un po' che riusciamo a combinare Poi io sono scarso con Sandy Lo sappiamo tutti No non è vero In realtà no Puoi fare di meglio Dai no ti prego Manca veramente poco A sta situazione Ok questo si è fermato Non so perché Questa cosa mi potrebbe piacere Oh no L'ha ucciso lui E io uccido te Ok quello si è daro Dell'A Eccolo Uno due tre Uh Kill mia Stavo per chiccare qualcos'altro E invece Ok me do La super di Sandy Potrebbe fare la differenza Ok me do De qua No mi ha fregato Mi ha fregato Mi ha fregato Ok siamo su continua così Che posizione abbiamo fatto Che posizione Quarti Va bene Mordughino il povero Livello 5 Quanto ha fatto la differenza Non saprei dirlo per adesso Ops Eh però mi sono fatto un po' Pregare dall'automira Ok il tizio Vorrebbe ritornare da noi Ma a noi non ci interessa Grazie Sei pericoloso Quindi è meglio non esagerare con te Puoi fare di meglio Lo so che posso fare di meglio Anzi hai bisogno di più stelle Neanche puoi fare di meglio Pure peggio Ah Preso Ok Oh guarda quella Presa Eh però stiamo a rischio male eh Mi piacerebbe acchiapparmi così Tu Forse ci mori Eh non da Eh ma se l'è fregata la Piper La kill se l'è fregata la Piper Boom Sei in testa Grazie E mo mi faccio acchiappar così Vabbè vabbè Mi sono andato ieri Eh tu sei morto figlio ho detto Bello Bello Bella per me Ahia mi ha acchiappato Due e tre Non ci credo Ahia mi ha acchiappato male Eh questo ce l'ha con me Lo so Oh le No guardate quanto si è salvato Non ci credo Scusami eh Broccolo Eh vabbè vabbè Mica sono andato ieri davvero Mi piace la battaglia tra quei due E io faccio la battaglia con questo No non vale Guarda che cattiveria questi Eh si è fatto ammazzare così No dai non ci credo mi ha ammazzato Non ci credo neanche nella vita Cioè veramente No sto lontanissimo regà Non ce la faccio recuperare Peccato 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 Poteva essere una bella soluzione Oh eppure sto a nove stelline eh Non è che sto bambino Boom Continua così Grazie Mi sei arrivato proprio in bocca Così diretto Gentili No Non su di me Le brutte persone Sono rimasto su continua così Ditemi di sì Di nuovo quarto Quanto ci scommettete? Quanto ci scommettete? Terzo Ma io di prima E va bene Questo nerf sinceramente Non mi sta dando Troppi troppi problemi Beh di sicuro non è più OP come prima Ma non è un problema gravissimo Boom Ucciso Povera piper Mi quasi dispia Cerchiamo tutti i colpi Giustamente stiamo in continua così Le pare Allora quella Jessie Potrebbe essere un piccolo problema Uh me la frego io E ho capito Oh sì vabbè Ma quante piper c'erano qua dentro? No regà l'avete viste? Sì Mi hanno fatto l'incrocio dei schiaffi I piper È molto sul continua così Le pare Eh beh Allora Non so dove si sono Nascosto Ok Io mi nascondo nella mia sabbia Se possibile Ho lisciato un colpo? Eh no A me se la frega lei la kill Eh sì Peccato 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 Potevo fare di meglio Mi diceva Mi dicevano che potevo fare di meglio Eh vabbè Vediamo un po' se te prego E voilà No Ave poco Preso Vai No non ci credo L'ho ucciso L'ho ucciso Sono morto ma l'ho ucciso La kill è la mia eh Undici stelline infatti Ok c'è qualcuno qua dentro Molto divertente Grazie Ok No ma ha chiappato un pieno Dai che cuore che c'ha Naggia era in testa Regà 25 secondi era in testa Mo' diventa continua così Tanto è sempre così regà Morduk sembra di aver fatto Tante stelline Invece poi c'è more Cavolo Eh no Rischio male Uh Eliminalo Ti prego Sei in testa Sei in testa Mamma No non ci credo Quello stecca Ha previsto il movimento Dai sono in testa Sono primo Ma deve Dambèccolo Interessanti questi nerf Vabbè Si nota effettivamente Che quel colpo di più Gli manca Eh però Ok Benissimo Ci piaci Riattaccami Tu ci mori subito Non l'ho capita questa mortis Ma rispieghi E fammi rivedere Perché Oh E' stata bellissima E' stata una cosa stupenda Oh C'è una piper Rosa C'è una piper rosa E noi non ci piacciono Le piper Oh Lì si combattono male Guardalo Guardalo Quel brocchino Ciao broccolo E te pare Mi faccio acchiappare così Vabbè vabbè Mi sono nato ieri Oh Eh si Mo mi hai acchiappato bene Hai fatto benissimo Sono nato io Lo ammetto Allora là c'è la piper rosa Ancora Sta combattendo contro qualcuno Non è vero Sì vabbè Ma acchiappato Lo sapevo io Mi è piaciuta Quella fuga lì Eh Oh Eh me la so fregata io Achille Via di questo Ciao 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 Proprio A chi tocca Anzi in grugna Ok Ok Potrei in fase Uh Mia Grazie Oppela E questo che fa Non l'ho capita Bam bam Mia No l'ha fregata lei Con un pelo Non sa No Aiuto Dai no Perché è attaccato lì Uh Fuggi Curati Grazie Hai rischiato male Mordug Lo sai Oh Non c'è nessuno qui E qui si però Eh Uccisa la piper Con grande cattiveria Ok Ah è scappata Ah ma ha preso in pieno Vabbè dai Continua così Sarò terzo un'altra volta Che dite Puoi fare di meglio Modivente Io lo so Tanto è sempre così Quando muoio In questo momento Guarda terzo Io dico terzo Quarto Ancora peggio Ultima partitina Dello scarso Mordug Dai una l'abbiamo fatta In testa Mi accontento Sinceramente Non vedo il disagio enorme Di questo drop Molti dicono Oddio Non si può più giocare Come prima Ma non diciamo Cavolate Solo perché è stato Un po' annerfato Non è che Eh Che volevi farmi Sì vabbè Oh Porca miseria però Scherzavo Mi stavi a fare Vero Ok Succede una bella Battaglia qui No L'ho presa io Sì Te l'ho ninja Questo è un problema È un pericolo grosso Eugenia è un pericolo Veramente grande Perché c'è il raggio Della vita Può fregarmi Quando vuole Ecco magari Quello Ci prende le botte Ok se è fermato Non so perché Approfittiamone Là c'è una piper Molto intrigante Mi piacerebbe Attaccare Bambam Mia Grazie E Che vuoi fare Oh Bella così Te voglio bene Gentilissimo Aia Ce l'hai provato Allora c'è l'eugenio Che mi può Achiappare Da là Mi piace La situazione Un po' strana E Quindi Guarda che c'è Mare quello Oh No L'ho lisciato Ok faccio una passeggiata In su perché c'è La piper Grazie Lei è stata una piper Molto gentile Bam bam E l'ultimo colpo Bam 15 La cattiveria Di mordug Guardate Che stelline Sulla testa Ne le posso anche Portare Ok Speriamo di rimanere In testa Perché queste stanno A meno malissimo Ho preso Mamma mia Ragazzi Ok me do Voglio rimanere Con tutte le stelline Opela Altra kill Esagerazione Sinceramente Questo nerf Non l'ho risentito Per niente Ho fatto delle belle partite Qualcuna è andata un po' male Anche per i miei sbagli Ma il personaggio Se la cava benissimo Ragazzi E sono livello 5 Oltretutto a grado 18 Quindi non sono neanche Maxato E neanche senza star power Quindi Alla grande Sinceramente Il nerf Non gli ha fatto niente Proprio niente Quindi se sentite Alti youtuber Che dicono Oddio Non si può più giocare Non è vero Lasciatevi perde Guardate Bam 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 Ci prendiamo le 3 casse Con il più 200 Di nuovo Perché già ce n'avevo uno da parte Un bel ticket E ci apriamo l'ultima cassetta Vai 3 ticket guadagnati così Anzi 3 cassette guadagnate così Arriviamo a mille like Condividete il video Iscrivete al canale Se non è Lascia l'hashtag BlueStars Con sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video E ci vediamo nel prossimo video